Non hai la minima idea dello stile e del senso della moda. Sono la musa della moda. E' considerata da molti stilisti emergenti un'icona di riferimento. È la migliore. È come una bambina di bambina di bambina di bambina. È incredibile. Io la conosco da 20 anni. Siempre amava la bambina. Ciao ragazzi, tutto bene? Siete pronti? La mia Fashion Week è un mese e mezzo, anzi due, diviso in varie tappe nel mondo. Comincerò ad andare ad Hong Kong. New York per me è il social meeting. Diciamo che è un lifestyle tra la moda e tutto quello che la ispira. Queste sono le tue per New York e London? No. Questo è... Ciao. Finito. Però è il migliore. Questo è il migliore. Londra è una piattaforma di decollo per nuovi stilisti. La fashion è questo tipo di progresso. Per me la fashion è sempre in comforza. Milano per me è l'inferno. È il lavoro, lavoro, lavoro. Bisogna riuscire a coprire tutte le sfilate le più possibili perché un po' sono amici, un po' sono parenti. Isi de Vado e Stefano? Parigi è per me il momento più glamorous. Parigi è per eccellenza la città romantica, la città della moda, la città... Buon giorno, grazie molto per la gentilezza. Dove proprio mi piace stare. Qui ci troviamo a Ritz, nella mia camera di Ritz, che è la mia seconda casa, grazie al cielo. Non c'è la pochetta. Mi piace portare questo. E' elegante. E' elegante. E' elegante. E' mi donna questa attitudine quando corriamo. E' così. Spostata quel cubo dietro. Mi dai delle scarpe? Mi aggiusti la coda? In sorsa di San Pellino. Sono molto contenta di essere italiana, soprattutto perché porto questo modo, questa specie di stile di vita italiano, lo porto con orgoglio. La cosa che mi piace più della moda è divertirmi con look. Rigorosamente io preparo tutti questi look se ne si prima. E quindi ogni giorno mi cambio al minimo due volte al giorno. Questo è un po' come la filosofia dell'acqua. Per esempio, io bevo sempre acqua di rizzanti perché dico se c'è da brindare veniamo con le bolle. E io porto la moda anche in italiano.